ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare perché perché oggi è martedì quindi cosa succede ogni martedì esce un nuovo video delle makeups angels quindi per questa settimana io fabiana elisabetta abbiamo deciso di farvi vedere i nostri must have i nostri best per quanto riguarda l'autunno allora io inizierei direttamente dalla base perché spesso capita che facciamo diciamo una base leggermente diversa da quell'estiva perché la nostra pelle è ancora un po ripresa dal sole e tutto la mia no assolutamente perché ho sole non ne ho preso però cerco un po di diciamo racchiudere un po la stesura del fondotinta per fare un effetto un po più particolare in questo momento non sto non ho messo niente perché avevo fatto uno scrub e poi ho appena fatto le sopracciglia con le ne ditemi come sono e quindi non ho messo niente proprio perché sono arrivata da poco dall'estetista quindi non non ho potuto fare niente però vi voglio far vedere la mia base per quanto riguarda l'autunno i prodotti tra virgolette che io sto utilizzando e che mi sto trovando bene per prima cosa a parte la skin care che ancora sto utilizzando la crema il contorno occhi di sephora perché preferisco finirli i prodotti per lo meno per quanto riguarda la skin care perché non vedo differenza nel mio viso nel senso tipo di di problematiche diciamo abbastanza avanzate quindi non sto utilizzando in india nient'altro sto mettendo la crema contorno occhi di sephora e poi la crema sempre di sephora allora iniziamo per quanto riguarda la base io sto mettendo questo qui di revolution che il siero mi sto trovando bene sinceramente già l'ho utilizzato un bel po sono due tre volte che l'ho utilizzato e mi sono trovata bene mi mi levica abbastanza nella parte del contorno qui del naso e le linee ovviamente di espressione e sinceramente lo metto anche qui proprio sotto gli occhi oltre al contorno occhi e devo dire che mi sto trovando bene quindi è un ottimo alleato per quanto riguarda il primer per quanto riguarda il viso per il fondotinta lui lui l'infallibile di l'oreal sono arrivata qui non so se si vede la lineetta sono arrivata qui io mi ci trovo bene l'ho utilizzato anche l'anno scorso e mi sono trovata bene sinceramente il colore è adatto al mio viso questo è il 100 linen io mi trovo bene ha una stesura ottima la stendo sia con il pennello che con la spugnetta ovviamente la spugnetta bagnata non con l'acqua però bagnata e sinceramente mi trovo bene ha una coprenza ottima io non cerco cioè come vedete io sono senza fondotinta quindi io non ho discromie da nascondere pesanti quindi per me basta che un leggero cioè che mi uniforma il viso per me va bene e questo è il colore adatto proprio alla mia carnagione e quindi un colore neutro e mi piace mi piace veramente tanto quindi ve lo consiglio anche questo per quanto riguarda la cipria io sinceramente sto utilizzando la combo delle due cipre di astra perché questa qui che è la 02 è leggermente scuretta per adesso ma mettendole assieme e io vedo l'incarnato perfetto e sinceramente mi sta piacendo ho spostato leggermente quella di nabla che io ho la light se non mi sbaglio che mi ci trovo benissimo e sto sfruttando tantissimo queste due la profumazione di delle cipre di astra è fantastica ma in più una combo con tutte e due le colorazioni quindi quella bianca traslucente e quella leggermente più scura che la 02 per me sul mio viso sono un'accoppiata vincente poi andiamo avanti e vi faccio proprio andiamo con le graduazioni aspettate che tolgo qui le cose perché le ho messe una sopra l'altro allora per quanto riguarda il blush ho tolto tutto sì per quanto riguarda il blush io vi devo assolutamente segnalare come prodotto autunnale questo di wicon questo è lo 06 a me piace tantissimo è un color carne non è quello che indosso perché ho fatto un make up velocissimo e quindi non ho preso proprio i prodotti che sono qua dentro proprio per fare per stuzzicare la vostra curiosità ho messo questo qui di wicon perché mi piace tantissimo devo dire che ha una colorazione di carnagione avete presente quando siete un pochettino arrossate però non troppo evidenti che da sull'occhio questo è perfetto mi piace tantissimo proprio a quel quel diciamo quella sfumatura di carnagione abbastanza rossa che ti dà quell'effetto di arrossire ma non troppo ed è una cosa che mi piace quindi questo di astra e poi un altro che vi volevo far vedere puliamoci nei pantaloni questo qui di kiko dove c'è sia il blush che l'illuminante e sono questi io adoro questi colori sono diciamo leggermente abbronzati che possono essere utilizzati anche in estate ma io adoro questi colori invece in questo proprio periodo perché mi strapiacciono ed è questo blush sempre sulla sull'effetto diciamo guance arrossate ma non troppo che da sul marroncino e poi questo bellissimo illuminante che è stupendo veramente stupendo ed è questo qui aspettate ne metto di più sono bellissimi questo effetto dorato mi piace tantissimo e questa combo di kiko è un edizione limitata infatti proprio per non farvi vedere soltanto l'edizione limitato ho messo anche qualcosina in più come ad esempio questo illuminante di ofra a me piace tantissimo questo è il mini highlighter blissful ed è bellissimo vi faccio leggere il nome blissful ed è veramente ottimo cioè guardate guardate è uno champagne spettacolare il colore il colore è simile a quello di di kiko però molto più pigmentato vedete è questo qui molto molto più pigmentato e io adoro questi tipi di colore perché ti fanno ti illumina una cosa pazzesca e adoro come parlare di contouring allora voi non mi vedete spesso fare contouring nei miei video perché ci perdo più tempo perché voglio stare attenta perché non sono pratica nel mettere il contouring e tutto però quando non faccio video e mi trucco per conto mio io lo metto il prodotto che sto utilizzando in questo periodo è harmony di mac che sarebbe questo qui questo che mi dà un leggero incarnato diciamo per sfumare per fare diciamo un contouring abbastanza leggero non voglio una cosa troppo pesante e per scaldare un pochettino utilizzo questo qui di fenty che è questo questo colore qua ed è lo shady bees che è questo ed è leggermente più abbronzato quindi io metto harmony poi accanto gli metto questo qui perché mi dà quell'effetto un po' abbronzatino che mi piace però non lo faccio troppo evidente perché non mi piace proprio non mi piace il contouring troppo evidente e questo è tutto per quanto riguarda il viso andiamo alla nota dolente che sono gli occhi per gli occhi ho tante cose non vi sboccio tutto perché sennò finiamo proprio allora per quanto riguarda questo periodo a me piacciono tantissimo questi colori vedete anche l'abbigliamento è sempre quello mi piace tantissimo questa qui di mulac che è la daily mood mi piace mi piace veramente tanto perché ha questi colori che proprio sono i colori autunnali quelli che utilizzereste sempre tipo il c'è un rosso una specie da maranto questo che è un senape abbastanza chiaro poi ha dei glitter io direi che sono delle palettine ottime come li facciamo velocemente come quelle di huda beauty quindi qualcosa di high cost vi faccio vedere tipo la move obsession che è fantastica con questi colori tipo vedete sempre rosso in evidenza con del malva delle cose glitterate oppure la nude scusate la medium nude che sarebbe questa questa ha dei colori sempre su quelle tonalità qui ha un pochettino del rosa però in questo periodo il rosa non mi sta piacendo tanto oppure questa qui la rich che ha sempre dei colori abbastanza particolari questa qui scura ha dei colori molto molto particolari sono leggermente più scuri adatte a questo periodo vedete delle sfumature che danno sul rosso sul borgogna abbastanza scuro io adoro questi colori e poi vi faccio vedere vabbè questa la conoscete la subculture di anastasia che sarebbe questa e questa è fantastica cioè guardate che colori guardate che colori questi sono dei colori autunnali all'ennesima potenza questi sono stupendi mi piacciono tantissimo proprio a un range di colori proprio adatti io questa palettina l'avrei chiamata autunno perché ha dei verdi troppo troppo belli del senape diciamo chiarino questo leggermente più scuro questi da sfumatura e poi i verdi sono una cosa eccezionale veramente eccezionale questa palettina è fantastica vi faccio vedere all'ultime palettine che ho preso proprio per quanto riguarda anche questo periodo e li vedrete poi in qualche video sono questi qua della catrice che devo dire io ho visto solo gli swatch perché ancora non li ho utilizzati e sono queste e sono fantastiche fantastiche i colori vedete il verde vedete questi doratini qua questi bronzini molto molto bello guardate il verde scuro sono dei colori proprio adatti a questo periodo infatti scrivetemi un commentino se volete vedere qualche make up per quanto riguarda questa palettina questa si chiama la sunshine hit me up natural tone e poi vi faccio vedere anche questa qui che è la warm tone questa qui sempre di catrice e questa anche oltre ad avere dei verdi ha dei rossi e dei gialli arancioni bellissimi proprio adatti a questo periodo e non vedo l'ora di fare dei make up con queste palettine perché sono delle novità ovviamente poi li vedrete nei video già registrate e tutto ma siccome stiamo sistemando la stanza dei miei figli quindi un po' siamo indietro con la pubblicazione dei video l'ultima che vi faccio vedere è questa la new entry questa mi è stata regalata dalla mia migliore amica e la faccio vedere la volevo prendere rendecisa prendi 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 l'ho presa ed è questa questo spettacolo di morfi questa è la mine event 24 e questa è proprio autunnale io adoro questi colori scusate adoro questi colori vedete è spettacolare veramente spettacolare mi piacciono tantissimo poi non lo so ma sono in fissa con questi colori tipo senape questi colori qua che mi stanno piacendo tantissimo guardate questo verde questi in fondo invece sono degli ombretti che possono essere utilizzati bagnati e formano diciamo un eyeliner quindi sono fantastici e poi dei glitter ovviamente non devono mai mancare glitter mai 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 poi per quanto riguarda le palettine abbiamo finito poi volevo diciamo per quanto riguarda i must have sempre per quanto riguarda l'autunno direi di spostare un pochettino la matita nera all'interno dell'occhio e mettere la matita marroncina all'interno dell'occhio quindi una matita marrone io ho questa di Astra e devo dire che nel makeup che ho fatto sinceramente ci stava alla perfezione io adoro sia questo colore che il Malva che non ho preso poco fa ma che dovrebbe essere qui nei paraggi vabbè il Malva che è quello di Essence a me piacciono tantissimo questi colori all'interno siccome sto facendo abbastanza makeup con questi toni caldi con il dorato, con il bronzo la matita marroncina è un tocco proprio particolare per quanto riguarda questo periodo un altro ombretto che sarebbe anche l'ultimo ombretto che vi faccio vedere è l'ombretto che io ho utilizzato sugli occhi proprio in questo momento ed è Shield, è un Frost ed è quello di MAC questo è un ombretto cremoso lo vedete proprio sul mio viso di questo colore aspettate vediamo se si vede bene ecco esatto questo proprio questo colore ed è bellissimo ed è il colore che mi vedete sugli occhi io l'ho messo con un pennellino abbastanza ampio così proprio per fare una cosa leggera io di norma metto questo mascara e vado da mia mamma questa per me è una combo perfetta e ovviamente per avere delle ciglia abbastanza particolari ma questo è un mascara ve lo faccio vedere di sfuggita questo è un mascara che sto mettendo sempre è un mascara di Astra perché per me è fantastico poi andiamo alla nota dolente sapete tutti che il mio cruccio sono le labbra perché ho il tatuaggio sulle labbra non è fatto perfettamente perché mi è stato detto che ho una simmetria per quanto riguarda le labbra leggermente storta e quindi non mi verrebbe mai perfetto non lo so se c'è qualcuno che è esperta per quanto riguarda le labbra mi scrivo un commento giù perché sinceramente ne vorrei sapere di più di questa situazione comunque lasciamo perdere quello e andiamo ai must have per quanto riguarda l'autunno allora per quanto riguarda le labbra io di matite labbra vi ho preso alcune diciamo tra cui quelle di Wicon e quelle di Neve Cosmetics io sto adorando questi tipi di colore li vedete ovviamente sulle mie labbra spesso perché mi piace tantissimo la combo tra gli ombretti che vi ho fatto vedere poco fa e queste matite labbra io adoro sia le matite di Wicon che quelle di Neve Cosmetics perché mi piacciono le pastelle sono fantastiche certe volte le utilizzo anche mettendo un po' d'olio sulle labbra questo qui sto utilizzando spesso questo qui di Astra metto la matita metto un po' d'olio e vado mi piace tantissimo questa combo e mi sto trovando benissimo invece per quanto riguarda i rossetti ve ne volevo segnalare alcuni low cost e poi uno high cost ovviamente per quello high cost non potevo che non segnalarvi quello di Huda Beauty perché è fantastico è il migliore e io lo adoro in assoluto questo è il Wedding Day ed è questo colore qua ed è un nude molto molto bello mi piace tantissimo proprio per questi trucchi abbastanza caldi ed è fantastico sulle labbra ha una confortevolezza spettacolare e sinceramente già l'avete visti che li sto prendendo altri cioè li vedrete nei video che verranno a seguire perché ne ho presi altri mi sto trovando benissimo perché hanno una confortevolezza sulle labbra pazzesca io che sono scusate perennemente con i balsami labbra questo qui è sempre di Huda Beauty sono sempre a mettere balsami labbra perché ho bisogno di idratazione sulle labbra questi rossetti sono una meraviglia veramente se li trovate specialmente per il Cyber Monday io metterei qualcosa nel carrello non lo so non lo so poi invece per quanto riguarda il low cost vi voglio segnalare questi tre rossetti di Wicon devo dire che mi stanno veramente colpendo tantissimo tra cui il Mattificent il 227 che è questo colore che è un malva abbastanza scuro che sapete tutti che io adoro i malva quindi lui ci deve essere assolutamente e poi questi due della linea qual era la linea? non me la ricordo comunque lo 01 e lo 02 della mischi aspettate che non ci vedo no non lo leggo proprio Miss Coccosa comunque non non li leggo questo è lo 02 e lo metto qua vedete è un nude un nude caldo ma non troppo io lo ritengo un neutro perché non metto cose calde perlomeno non mi stanno e questo è lo 01 che è leggermente più rosato ovviamente in base al makeup che faccio scelgo il rossetto da indossare e questo è lo 01 devo dire che questa combo di rossette mi sta piacendo tantissimo e mi ci trovo molto 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 bene per quanto riguarda invece le tinte labbra visto il periodo che stiamo passando per quanto riguarda le mascherine e tutto io indosso già una che sarebbe questa qui che è la 23 questa è quella che indosso adesso e vi segnalo queste qui di sefara perché sinceramente sono quelle che sto utilizzando di più e sono i colori che sto mettendo più spesso per quanto riguarda il makeup se devo mettere la mascherina utilizzo le tinte labbra se devo andare da mia mamma a prendere il caffè utilizzo il rossetto io mi trovo bene con queste due combo e sinceramente sono dei prodotti che vi consiglio tantissimo perché sono fantastici proprio fantastici perché ti rimangono sulle labbra e non si tolgono nemmeno con le cannonate io mi trovo benissimo ho anche quelli della Maybelline ce n'ho anche della Gerard Cosmetics e tutto però sto utilizzando questi quindi vi faccio vedere questi questi sono i tre colori che utilizzo di più che è lo 04 il 77 e il 23 queste sono le colorazioni che sto utilizzando di più in questo autunno poi aspettate che mi tolgo lo Juicy per quanto riguarda sempre l'autunno vi volevo consigliare delle candele queste sono dei doppioni perché le altre già una ce l'ho in uso e sono questi qui di Ikea che si chiamano Bracca hanno una profumazione di Monti non mi ricordo com'è che si chiama comunque quel biscotto che c'ha il cocco all'interno a me piacciono tantissimo proprio in questo periodo perché il cocco di Norma è più aessivo ma attaccato al cioccolato mi dà quell'effetto di autunno non so dirvi il motivo e niente questi ovviamente rimarranno così appena finisco le tre che già sono in uso perché io li metto in cucina una ce l'ho anche qui però questa che ho nel salotto non è accesa le altre invece sì mi trovo benissimo ho preso anche altre profumazioni che poi vi farò vedere in futuro e sinceramente sono ottime poi per quanto riguarda il profumo sapete tutti che sto film per quanto riguarda il profumo sapete tutti che io ho il mio e non lo cambio non c'è stagione per quanto riguarda il mio profumo per quanto riguarda l'abbigliamento mi piace indossare questi tipi di felpe con questi colori un po' più particolari e a proposito e a proposito oltre lo zaino che vi ho fatto vedere nei video delle sempre delle mie Caps Angels quindi ve le metto qui sopra e giù nell'infobox le altre borse quelle per quanto riguarda lo zaino per quanto riguarda invece le borse io utilizzo spesso questa qui che è un bel arancione bruciato pazzesco mi piace tantissimo oltre che comoda è quella di Carpisa è quella di Carpisa oltre che è una borsa abbastanza comoda ci entra il mondo vedete quanto è grande ci entra veramente il mondo e io mi trovo bene perché la porto o così appoggiata ovviamente al braccio oppure con la tracolla che diciamo nel solito modo come io esco io esco direttamente con la tracolla e mi piace tantissimo è comoda e c'entra veramente di tutto e di più invece se devo stare un pochettino più elegante un pochettino più particolare indosso questa che è molto bella anche questa scusate ma io di norma li li metto nel bauletto perché ho dei bauletti ho tre bauletti grandi dove inserisco le borse quindi questa è un pochettino piegata ed è questa borsa qui questa l'ho comprata dai cinesi mi piace perché è abbastanza particolare ma è semplice al tempo stesso perché ha questa manica questa manica questo braccio che lo potete tenere o appoggiato così oppure con la mano è abbastanza capiente ve la faccio vedere all'interno è abbastanza capiente e poi è adatta all'outfit che indosso proprio in questo periodo quindi sul beige anche vedete con questa felpa ci sta benissimo e mi piace ha anche la tracolla ma gliel'ho staccata perché sinceramente si era un po' sfibrata e non mi piaceva e quindi gliel'ho tolta ma posso inserire qualsiasi tipo di tracolla posso metterle anche una tracolla tipo dorata come come ha diciamo queste maniglie qua e devo dire che mi piace tantissimo veramente tanto 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 ovviamente questo è quello che io predeligo di più per quanto riguarda l'autunno scrivetemi un commentino qua sotto e ditemi cosa vi è piaciuto di più oppure cosa volete vedere nei prossimi video per quanto riguarda anche le Makeup Angels perché noi siamo propensi a fare un sacco di video quindi aspettatevi una marea di video alcune già le abbiamo in preparazione le altre li faremo piano piano perché abbiamo un sacco di idee per quanto riguarda questo video è tutto ovviamente aspetto i vostri commenti sempre educati educati ovviamente andiamo subito a vedere cosa vi hanno proposto sia Fabiana che Elisabetta io sono molto molto curiosa io sono una persona molto curiosa se volete fare questo video taggateci nell'info box scrivete tipo le Makeup Angels oppure nel titolo così noi andiamo a vedere cosa avete proposto anche voi qualsiasi video delle Makeup Angels che vi piace e volete proporlo anche voi taggateci perché non ci fa tanto tanto piacere la stessa cosa se vedete il nostro video taggateci anche su Instagram così andiamo subito a vedere se avete visto i nostri video se vi sono piaciuti e tutto io sono molto contenta di vedere questi commenti sotto i miei video perché sinceramente mi fa capire che vi è piaciuto il video e che vi piace questa community che stiamo tra virgolette costruendo noi piccoli canali io per quanto riguarda questo video è tutto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao